La scogliosi è una deformità strutturale della colonna vertebrale che colpisce il 5% della popolazione. Quando questa patologia è in uno stadio non ancora avanzato, è possibile grazie alle nuove frontiere mediche raggiunte intervenire chirurgicamente in maniera meno invasiva rispetto ad un caso di scogliosi più evoluto. Uno dei principali centri internazionali che sfruttano questa conoscenza medica è l'unità di ortopedia e chirurgia vertebrale dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, diretta dal dottor Massimo Balsano. Siamo in grado di fornire ai pazienti la migliore cura, la migliore tecnologia offerta per questo tipo di problemi. Gli interventi innovativi vengono effettuati attraverso piccole incisioni e inseriamo delle telecamere all'interno della cavità toracica in modo tale da poter visualizzare la colonna vertebrale e inserire delle viti sulle vertebre e attraverso ogni vite inseriamo una specie di tirante e viene messo in tensione attraverso strumenti speciali in modo tale da correggere la parte deforme della vertebra e quindi permettere attraverso questo al paziente di poter svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva perché ha la schiena corretta ma non bloccata. Questa nuova tecnica di intervento va quindi a correggere la situazione prima che sia gravi. Quando poi le scoliosi peggiorano dobbiamo intervenire con interventi molto più aggressivi e quindi con incisioni più larghe, più lunghe e con l'inserimento di mezzi di sintesi più potenti. Noi curiamo anche questo tipo di problemi ma chiaramente spingiamo per evitare di arrivare a questo tipo di problemi. La prevenzione è come sempre fondamentale anche per quanto riguarda la scoliosi in età evolutiva. La prevenzione si fa attraverso l'uso di medici pediatri, di medici di famiglia, di operatori sanitari che hanno a che fare con i ragazzini in crescita, in evoluzione, che fanno sport. Il mio messaggio sarebbe quello di, certo, avere la possibilità di curare al meglio chi è affetto da scoliosi evolutiva ma soprattutto quello di prevenire e di saper riconoscere quali sono le scoliosi evolutive da quelle non evolutive. Come faremo a fare questo? Secondo me attraverso degli screening, screening scolastici. Spero presto di poter presentare un progetto di questo tipo proletorato in modo tale che il proletorato e i distretti scolastici insieme appunto al progetto dell'azienda sanitaria universitaria e ospedaliera di Verona possano completare secondo me questo importante passaggio molto utile ai ragazzi.